Questo l'attacco che ha ammazzato i cadetti dell'Accademia Militare di Tripoli. Gli attacchi aerei che insediano la capitale libica hanno colpito anche l'aeroporto. Si attarra infatti a misurata e arriviamo a Tripoli grazie ad un'autoambulanza. Le bandiere in città sono a mezza asta per il lutto nazionale. Il governo di accordo nazionale si sente isolato con il solo appoggio della Turchia. In piazza le persone manifestano contro l'isolamento internazionale. I colpi di mortaio non risparmiano i civili in un paese sempre più spaccato. Questo è un bambino, 7 anni. Non dormo in gaming qui. Non è chiaro chi è in charge. Perché la guerra è ancora accaduta. Non voglio parlare bene di nessuno. Non dormo in giovani. Non dormo in giovani. Non dormo in giovani. Non dormo in giovani.